I carabinieri della compagnia di Tiene stanno ancora indagando per capire le origini dell'incendio scoppiato all'interno dell'azienda Fratelli Martini di Montecchio Precalcino che ha distrutto una betoniera e danneggiato seriamente altre tre. Circa 200.000 euro la montare del danno. A quasi una settimana da arrogo non è ancora stata stabilita la causa e accanto alla possibilità che si sia trattato di un cortocircuito non si escluda neppure l'ipotesi del dolo.